ragazzi siamo in diretta c'ho un po paura perché sono tutte donne quindi si sa che... non riesco a riprendervi tutti ma... abbiamo fatto anche anni sessanta in bianco e nero va bene è un briefing quindi la diretta vera e propria sarà dopo questo domani a carnevale allora sfido gli uomini di Alconate a fare la stessa cosa sono solo le prove adesso vediamo anche... mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. è una domanda questa comunque continuo a aver paura mamma mia dalla dira da mamma la tenete su e cambiate per l'anno prossimo un bel gruppo di uomini che sfidano le donne poi siamo qui ci fermiamo parte la vibri vai vai am 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 ragazzi dobbiamo lanciare la sfida qua la sfida con i ragazzi, dovrebbe essere anche un gruppo di ragazzi ma guarda, a noi le ragazze ci parlano allora arrivano le prove generali se io sono matto, loro sono più matto di me mi sa che domani ne vedremo delle belle qua bisogna lanciare la sfida domani, aspettiamo tutti il carnivale organizzato alla folcolistica la sfida la sfida la sfida ma provo generale par domani a carnevale Wow, buono ragazzi. Quindi domani a che ora? Allora c'è Daniela e Stefania Caci che sono bravissime. Nadia Zanzotta forti. Allora c'è Mara Milani, Rita Mattea numero uno. Angela Salvalaio, meglio delle veline, bravi. Allora vediamo se riesco, no, ecco che come sto qui. Comunque stavano dicendo domani... Domani dopo la sfida delle carri alle 4 ci sarà un pomeriggio di animazione con una scuola di danza in sport di Laia Pisoni. Lei farà un po' di intrattenimento con le sue bambine, poi ci staremo noi. E poi ci saranno le iscrizioni perché verranno premiate le maschere più belle, i vari gruppi e poi c'è il dos. E non c'è lo scambale, c'è la mamma. E verranno premiate poi sia i grandi sia i piccoli, verrà offerta la merenda. Certo divertirsi, venite che vi divertirete. Adesso! Non piove, non piove, non piove, ok? Grazie mamme!